La protezione civile di Padova è in trasferta a Verona per aiutare i colleghi della città scaligera dopo il violento nubifragio di domenica sera che ha provocato molti danni. Le foto dei volontari padovani sono state pubblicate sui social network dal vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che ha ringraziato tutti coloro che immediatamente all'indomani del nubifragio si sono messi a disposizione per lavorare fianco a fianco della protezione civile veronese nella rimozione di alberi abbattuti dal vento e di pulizia di strade travolte da acqua e fango. Grazie